1.400 cortometraggi provenienti da tutto il mondo per aggiudicarsi il premio intitolato a Dino de Laurentiis. Arriva alla quarta edizione il concorso dedicato ai corti e nato a Torre Annunziata per ricordare la figura del grande produttore cinematografico torrese. Una partecipazione tanto grande quanto inaspettata come spiega Francesco Germano, presidente della Kermess Cortodino. Noi francamente non ci aspettavamo una risposta così forte, così pesante anche per le piccole spalle che ancora abbiamo come organizzazione, che si fonda principalmente sul volontariato culturale. Questo ci ha riempito di stimoli a fare meglio perché vuol dire che il nome di Dino de Laurentiis, che è legato chiaramente al premio, è un nome forte, è un nome conosciutissimo nell'ambiente cinematografico. I lavori in concorso saranno proiettati in più serate mentre la premiazione avverrà il prossimo 21 novembre. In quella data si premieranno oltre al migliore attore e alla migliore sceneggiatura anche tre cortometraggi realizzati nelle scuole campane. Un modo per fare veramente cultura come spiega Francesco De Giovanni, assessore della provincia che ha dato il patrocinio al premio. Oggi noi abbiamo dato il patrocinio a questa manifestazione che è una manifestazione straordinaria e alla quarta edizione, l'abbiamo seguita sempre con molto interesse. Fa veramente cultura perché oltre a essere cultura perché in qualche modo è un concorso per cortometraggi, si interessa anche di cortometraggi dei ragazzi che stanno ancora nelle scuole. Quindi fa crescere una cultura dalle scuole fino a chi lo fa anche un po' per mestiere, chi già lo fa.